Belen Rodriguez. Un cambiamento sorprende. Bisogno di tornare alle origini. Ho sentito il bisogno di tornare alle mie origini. Le parole inaspettate della conduttrice. È tornata alle Iene Belen Rodriguez. Facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi numerosissimi fans. In ansia dopo la sostituzione in diretta su Italia 1 della settimana precedente. In quell'occasione Claudio Santamaria. Che aveva preso il suo posto. Aveva parlato di problemi di salute per la showgirl. Che era stata lontana anche dai social per un po'. Ora però è tornata in tv e attiva su Instagram. Tanto da mostrare il suo nuovo cambio look e spiegarne le motivazioni. Nel frattempo io mi sono fatta mora. Nel frattempo io mi sono fatta mora. Nella frattempo io mi sono fatta mora. Nulla di tutto ciò. L'amore con Stefano De Martino prosegue a gonfie vele. A conferma la cena a lume di candela organizzata in casa. E mostrata dalla showgirl sui social. Tavolo apparecchiato in salotto con luci soffuse e candele. Insomma. Un'atmosfera romantica che la conduttrice ha sicuramente voluto ricreare per il compagno. Impegnato in queste settimane con Stasera Tutto è possibile su Rai 2. Anche il partenopeo di recente è stato protagonista di un gesto che di fatto ha smentito le voci di crisi. Conduttrice delle Iene non si ferma più. I nuovi progetti professionali. Richiestissima dalle aziende come Testimonial, Belen Rodriguez continua a lanciare i nuovi abiti dell'azienda innominate. Marchio fondato insieme ai fratelli Cecilia e Jeremias. Intanto la showgirl, che ha chiesto di recente in diretta al pubblico di avere pazienza con lei, è tornata al lavoro anche sui social, mostrando prodotti make-up e svelando i suoi segreti di bellezza. Ora ha deciso di andare contro tendenza puntando su un colore scuro di capelli in una stagione in cui in genere si tende a privilegiare l'effetto chiaro, baciato da sole. Una scelta che farà sicuramente tendenza. Grazie. Grazie. Grazie.